Ciao a tutti, io sono una ragazza truzza, cioè, mi hanno detto che nel 2022 adesso va, beh, va di modo a parlare in corsivo, ma c'è, perché c'è, che cos'è il corsivo? Ah mio, sì, parlo come una cerebrolesia. Trozza, trozza, corsivo no, trozza, trozza, che cos'è il corsivo? Corsivo Che cazzo